Buongiorno, stiamo in diretta dall'edicola Sita in Viale Marche, che nasce a settembre del 1979 a cura di Reggio Salina. Naturalmente con l'andare del tempo è durato per 40 anni questa sua direzione, dopodiché è passata in mano a me, Giorgio Mancana, dal periodo del Covid. Niente, quest'edicola adesso cerca di rinnovarsi in tutto e per tutto, accogliendo naturalmente tutte le persone, tutti coloro che vogliono vivere in sociale in un determinato momento. Questo ci ha portato ad avere un incentivo di clientela e a far sì che anche i clienti esterni che vengano dal fuori di Reggio vengano appositamente qui per fissare i giornali, ma anche per dialogare. Quest'anno abbiamo messo su una novità nuova, nel senso che abbiamo strutturato un albero al nostro fianco, sulla nostra destra, che è stato allestito apposta per Natale, dove tutti i clienti hanno portato il loro dono da poter appendere a questo benedetto albero e addirittura c'è stato anche chi ha costruito un cappotto vero e proprio per rendere quest'albero unico nel suo genere. Niente, quello che mi urge adesso fare è farvi un grandissimo augurio per il nuovo Natale e speriamo che porti bene un po' tutti e vi attendiamo e vi aspettiamo se siete ancora in tempo per poter portare un qualcosa che possa essere appeso o messo lì vicino al nostro caro albero che ci rappresenta. Una buona giornata a tutti e buon Natale.